Il gesto che purtroppo si ripete a volte, questi cani sono stati abbandonati fuori e erano molto piccoli oltretutto. Erano stati trovati dentro uno scatolone, abbandonati poco dopo la nascita. Adesso questi quattro cuccioli sono pronti per essere adottati. La cosa bella è stata che questi cani, un pastore, ci ha detto che aveva delle femmine in allattamento e abbiamo fatto la prova di attaccarli a queste mamme cagne, a queste balie cagne. Sono così cresciuti e ora sono arrivati in canile, svezzati quindi naturalmente da una mamma cane e sono adottabili. Vedete, sono di taglia medio-grande, non è il cane d'appartamento, ha bisogno di passeggiate, di stare fuori e possono essere anche ottimi cani da guardia. Attende ancora una famiglia, anche Negan, Meticcio, Border Collie, arrivato in canile dopo aver affrontato momenti difficili. I suoi ultimi proprietari avevano dovuto rinunciare a lui e il cane aveva così perso la fiducia negli esseri umani. Si era veramente molto chiuso, anche nelle sgambate usciva solo per fare la pipì e si ripiazzava davanti alla porta per rientrare in box. Dopo un percorso in canile a fianco di educatori e volontari, adesso per lui si cerca un'adozione consapevole. Perché comunque sia un cane con delle caratteristiche particolari, un carattere forte, un guardiano, quindi non è proprio un cane per tutti. Però loro sono riusciti a dedicargli tanto tempo, lui si è aperto e è diventato bravo.